Spezia TV, personaggio del Duplè, dici qualcosa su questa serata? Questa serata me la sono dedicata perché al Duplè ci andavo a ballare un po' di anni fa, mi sono fatto gli anni 90. Il Duplè è nel cuore e stasera me la sono presa per ricordare, visto che ho degli eventi dentro di me, ricordo e mi piace. E ti ha ricordato le vecchie serate, è riuscita? Sì, non solo le vecchie serate, gli amici, tanti amici, alcuni non ci sono più, alcuni ci sono, ci siamo trovati, è stata una bella serata. Viva l'amore, abbasso la droga e viva l'energia pura, pura, la musica, viva la musica! Ma questi occhialini te li porti dalla prima serata del Duplè? No, ma io non ho problemi neanche a toglierli, io mi mostro per come sono, viva la musica e viva l'amore! Grazie Goletta! Come? Grazie Goletta, grazie Duplè! Grazie Duplè, Duplè paura, sempre! Grazie, ciao!